La tregua tra le due sponde dell'Atlantico è finita, la tregua commerciale, perché c'erano stati tre mesi di sospensione dei dazi sull'acciaio e l'alluminio, ma al termine di questi tre mesi gli europei evidentemente non sono riusciti a convincere gli Stati Uniti, o meglio l'amministrazione Trump, che le loro esportazioni di acciaio e d'alluminio non sono una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, perché di questo si tratta. Trump sostiene che le importazioni vanno a indebolire un settore strategico, perché tra l'altro, forse è una visione un po' vecchiotta dell'economia, ma insomma l'acciaio è quello che serve a costruire cannoni, carri armati, navi da guerra. Questa offensiva commerciale che era nell'aria colpisce paradossalmente quasi solo gli alleati degli Stati Uniti, e cioè Unione Europea, ma anche Canada e Messico, mentre rimangono abbastanza al di fuori da questa offensiva i cinesi. Questo semplicemente perché la Cina di acciaio e alluminio ne esporta poco negli Stati Uniti. È uno dei paradossi di questo atteggiamento di Trump che non riesce a trasformare le pur legittime recriminazioni sugli squilibri del commercio mondiale in una strategia delle alleanze che coinvolga anche noi, noi europei che abbiamo molti interessi in comune. Comunque guardiamo anche il calendario elettorale. Acciaio, alluminio sono zone produttive che votano Trump a novembre. Ci sono le legislative di midterm, quindi queste misure sono anche delle misure che guardano a certi collegi elettorali del Midwest della Rust Belt.